benvenuti nel gulag chi sopravvive con questa ci siamo preparati a combattere sei il prossimo vinci qui e ti rimandiamo in prima linea se perdi sei fuori gioco tocca a te soldato occupati di quello stronzo preparati a rientrare in azione no dai fa però dai dai ma dio porca di sembra anche gente hai spinto porca che ero fermo avevo detto che c'era gente ero fermo lì secondo te è cato da solo di stupido che porca di uomo che porca di uomo che porca di uomo hanno conciato per le feste il vostro compagno lo rispegniamo avanti no mi dico spegno te lo dico avete un lancio non mi va racciarmi dove è il problema usate dove è il problema lascio gas in arrivo alla nuova zona scuola attacco a grappolo nemico al riparo uapitevi il coin volo ti sighs ti 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 ti